Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico, rallentamenti tra Val d'Arno e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!